Buongiorno, buongiorno da Onda Tg, buona festa di tutti i santi, in apertura torniamo a parlare del Tribunale di Sulmona sulle sorti del Palazzo di Giustizia, non si sbilancia il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Lennini, non è il momento, ha detto ai nostri microfoni, tanto è bastato per riaccendere la battaglia, facciamo il punto nel nostro servizio. Quanto alla giustizia c'è la proroga, però sul Tribunale resta ancora qualche incertezza, che ci può dire? Che oggi preferisco parlare di mostra, di ambiente, di parco, di giustizia e di tribunale, parliamo un'altra volta. Ha girato l'ostacolo il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Lennini rispondendo nei giorni scorsi a Sulmona alle domande dei giornalisti sulla riforma della geografia giudiziaria che penalizza quattro tribunali minori in Abruzzo, fra cui quello di Sulmona. Fino al 2020 restano tutti in vita dopo l'ultima proroga accordata dalle istituzioni. Ma dopo cosa succederà? Lennini glissa la domanda, per il momento non si sbilancia, un silenzio che ha portato a riaccendere la battaglia. Resta un punto dolente, anche quello della pianta organica degli amministrativi, ferma a 21 su 33 previsti e solo a metà dei funzionari giudiziari, quattro su otto, con un sotto organico del 36%. Nonostante queste carenze, le pendenze dei dibattimenti penali sono sceste del 51%, quelle civili del 31% e quelle del contenzioso ordinario del 41%. Il riordino della geografia giudiziaria è stato al centro anche dell'ultima seluda del Consiglio regionale, con interrogazione del consigliere pentastellato Gianluca Ranieri. La soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, rappresenta un grave danno per il territorio abruzzese ed è ingiustificabile tanto l'assismo sull'argomento, interviene Ranieri. Il Presidente dice che tre anni sono lunghi e che abbiamo ancora tempo. Io credo che ad oggi quelli che pesano sono i cinque anni in cui non si è fatto nulla, salvo riempire i cittadini di parole che non hanno avuto alcun seguito. Un modo superante di questo che testimonia il poco interesse dell'aggiunta d'Alfonso rispetto a un tema così importante per tutto il territorio abruzzese. Inoltre rimango stupito, conclude, della casualità temporale che permette al governatore di annunciare proprio oggi, giorno della discussione e della mia interrogazione, la seduta di giunta che al 99% istituirà la commissione paritetica. Siamo in ritardo, altro che c'è tempo. La cronaca detenzione di eroina a fini di spaccio in Manette 2 e Sulmonesi, l'arresto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Sulmona. Sentiamo. Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E questa è l'accusa che viene contestata dalle fiamme gialle di Sulmona, due Sulmonesi, PC di 45 anni e FG di 59 anni. Entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che è stata fissata per domani mattina. Tutto è scattato da un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza di Sulmona, finalizzato alla prevenzione dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso del quale 45 anni è stato fermato e avrebbe tentato in vano di disfarsi di un involucro, recuperato in seguito dai finanzieri. L'uomo a quel punto, non potendo più nascondere la prova del reato, avrebbe riferito alle fiamme gialle di aver acquistato la dose di eroina dal 59enne. Dalla perquisizione dell'abitazione di FG la Guardia di Finanza avrebbe recuperato un involucro proprio con 6 grammi di eroina, da cui la decisione della Procura della Repubblica di Sulmona di disporre gli arresti domiciliari per i due sulmonesi in attesa dell'udienza di convalida. Propone contratti per conto di Onda TV chiedendo la somma di 50 euro, ma è una truffa. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dai commercianti di Sulmona, sentiamo meglio, nel nostro servizio. Chiede 50 euro in contanti subito prima della firma del contratto, che prevede una serie di passaggi pubblicitari televisivi da 7 novembre fino a febbraio 2018, con l'omaggio di billetti da visito calendari. E' l'offerta che viene proposta in questi giorni ai commercianti sulmonesi da un giovane che si presenta ai singoli locali, chiedendo sponsor e somme in denaro per conto di Onda TV. In realtà è tutta una finzione, dal momento che la nostra emettente televisiva è del tutto estranea a tali proposte. La segnalazione in redazione è arrivata dai commercianti che sono stati raggiunti dal giovane. Il soggetto in questione ha proposto un pacchetto di passaggi pubblicitari in TV, si è presentato in nome e per conto dell'editore, ma gli esercenti non sono caduti nel tranello. La modalità con la quale veniva proposto il contratto pubblicitario è parsa subito strana, tant'è che i commercianti hanno preferito prendere tempo, verificare la correttezza della procedura, risalire alla fonte. Al momento non si sa quante attività siano state raggiunte dall'individuo, ma l'invito che rivolgiamo ai nostri telespettatori è quello di diffidare da questo tipo di offerta e nel caso in cui l'episodio dovesse ripetersi, contattare immediatamente la nostra redazione al numero 0864 54 215. Sono due gli agenti pubblicitari autorizzati da Onda TV, si tratta di Carmine Di Pietro per la pubblicità in TV e Angelo Santilli per il programma radiofonico che entra in onda prossimamente sulla nostra emittente. Episodi simili a questi si sono verificati già nel passato, ora il nuovo allarme che risale a qualche giorno fa. La sanità sull'ospedale di Sulmona, il consiglio resta diviso in attesa della conferenza dei capigruppo convocata per la giornata di domani. Facciamo il punto nel nostro servizio. Una conferenza di capigruppo domani pomeriggio per discutere della riqualificazione dell'ospedale di Sulmona tenendo conto del modello Giulianova per arrivare il giorno successivo alla ripresa dei lavori consigliari a un documento unico che metta l'accordo maggioranza e opposizione. Si sono lasciati con questo impegno, su proposta del sindaco Anna Maria Casini, votata all'unanimità ai consiglieri comunali di Palazzo San Francesco dopo la lunga seduta di ieri che si è accesa sul tema della sanità, con l'intervento in aula del direttore generale dell'Asla Vezzaro Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera. La minoranza ha spinto fino all'ultimo per il primo livello che, come ha detto il consigliere di minoranza Antonio Di Rienzo, è la madre di tutte le battaglie. Non mi piace essere presa per la giacchetta su questi temi, in calza il sindaco che rinvia la discussione dopo la bocciatura dell'ordine del giorno, votato solo dalla minoranza, sul riconoscimento dell'ospedale di Sulmona come presidio di primo livello, almeno la richiesta della deroga. Una proposta complessiva di riqualificazione dell'ospedale, la strada intrapresa quindi dalla sisse civica che si spera trovi la definitiva unità intorno a un tema di fondamentale importanza. Per quanto riguarda la riqualificazione professionale e tecnica che riguarda il nostro neocosomio, con una trattazione precisa nei confronti dell'Asla. Per quanto riguarda il caso Giulianova, che è di queste ore, di questi giorni, è necessario acquisire documenti tali per vedere se ci sono i presupposti affinché anche questo consiglio comunale in una posizione unitaria possa esprimersi verso un'apertura di una trattativa con la regione per discutere il raggiungimento del primo livello del nostro presidio. Secondo me era importante che questa sera il consiglio comunale si esprimesse in maniera chiara e precisa perché Sulmona io credo abbia diritto al primo livello così come l'hanno avuto Lanciano Vasto e forse Giulianova. Fra gli altri punti discussi scuole, bretella ferroviaria, autocompostaggio e centrale unica di committenza. Sull'ospedale il manager dell'Asla, Rinaldo Tordera, è stato l'ospite d'eccezione dell'assiste civica su Sulmona investiti 23 milioni di euro e quindi il direttore generale dell'Asla 1 va oltre la riclassificazione. 3 milioni e mezzo sulle nuove sale operatorie e 20 milioni sul nuovo ospedale. Il manager dell'Asla 1, Rinaldo Tordera, ospite d'eccezione dell'assiste civica, sulmonese, non ci sta a far passare il territorio di Sulmona come quello meno attenzionato dall'azienda sanitaria. Carte alla mano Tordera prova a rispondere alle varie sollecitazioni dei consiglieri comunali. Il direttore generale dell'Asla non si ferma a discutere di riclassificazione del presidio ospedaliero. Al di là della denominazione che è un'etichetta formale, niente di più, non c'è stato nessun declassamento nei fatti. Quella che era l'offerta sanitaria di prima dell'attuazione dell'ecchietto 79 è l'offerta sanitaria di oggi. Il problema non è quello, i problemi sono altri. Sul nuovo ospedale resta in piedi l'ultima delibera dell'11 agosto 2017 dove l'Asla fissa la consegna del nuovo corpo ospedaliero per gennaio 2018. Sulla carenza di organico, patologia cronica dell'ospedale di Sulmona, il manager non si sottrae a confronto. Il problema esiste, è un problema serio, la stampa ne ha parlato molto, però a me non piace mai volermi lamentare di questo. Tant'è vero che ho ritenuto in questi ultimi giorni di diffondere il dato relativo alle persone che all'interno dell'azienda soffruiscono di prescrizioni e quindi di motivi per essere meno impegnati all'interno del proprio lavoro. Queste persone rappresentano il 18% nell'azienda, quindi credo che responsabilmente dobbiamo vedere le cose sia da una parte che dall'altra. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo produrre di più. Siamo a Sulmona, parliamo di Sulmona, i tassi di occupazione dei letti nei reparti a Sulmona sono generalmente molto bassi. Tordera chiude con un appello, l'ospedale non è fatto solo di strutture ma soprattutto dei medici che vi lavorano, nel vostro ospedale dovete crederci veramente, non far passare messaggi sbagliati. Sale il numero dei parti al punto nascita dell'ospedale dell'Annunziata, ma della vasca ancora nessuna traccia, la vasca per il parto in acqua. Facciamo il punto nel nostro servizio. 226 parti fino al 30 ottobre, 20 in più rispetto a quelli registrati il 31 dicembre dello scorso anno. Numeri in crescita per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona che negli ultimi due anni ha invertito il trend negativo, aumentando esponenzialmente il numero dei parti. Se ne è parlato anche ieri nel corso della salute del Consiglio Comunale, a fare punto della situazione è stato proprio il direttore generale dell'Asla Vezzano Sumona L'Aquila, Rinaldo Tordera. Si è ancora molto lontani dalla soglia minima dei 500 parti annui, fissata dal decreto Lorenzin, ma il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Annunziata sta recuperando la sua forza attrattiva. Il 2015 si è chiuso con 195 parti. Nel 2016 sono nati invece 206 bebè. Al momento le nascite registrate sono 226, ma da qui al 31 dicembre il numero potrebbe ancora aumentare. L'argomento è stato al centro anche della salute del Consiglio regionale, grazie a un'interrogazione presentata dal consigliere Mauro Febbo. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Cassini, ha voluto invece l'ennesima rassicurazione dell'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci. Nel piano sanitario dell'ospedale di Sulmona è previsto il reparto di ostetricia e ginecologia, ha risposto Paolucci alla sollecitazione nel primo cittadino, risposta comunicata ieri in aula. Nulla si sa invece dell'attrezzatura per il parto in acqua, la debbo annunciare da Asle Regione. Riscontri concreti in tal senso non sono mai arrivati. L'ha rilevelato ieri la consigliera comunale di Forza Italia Elisabetta Bianchi, dopo aver evidenziato con una punta di satira che l'arrivo del parto in acqua è stato annunciato per la gioia di Onda TV. Incalzare Regione Asle su un servizio che dovrebbe portare a potenziamento del reparto è prerogativa di un consigliere comunale. Il resto si poteva evitare. Ora cambiamo argomento per parlare del servizio pulizia a Palazzo San Francesco. L'appalto passa alla Puritas e la CGL chiede un incontro urgente. Sentiamo nel servizio. Un incontro urgente ha lo scopo di poter gestire le modalità del cambio appalto pulizia nell'immobili del comune di Sulmona, garantendo il passaggio di tutto il personale avente diritto secondo quanto previsto dalle normative vigenti. E' quanto ha chiesto la cooperativa sociale Puritas e il segretario della Filcams e CGL della provincia dell'Aquila Luigi Antonetti all'indomani della proroga concessa da Palazzo San Francesco alla Coppa 2001 in attesa del nuovo appalto che sarà giudicato dalla Puritas. Per il sindacato la priorità è quella di tutelare i lavoratori. Da qui l'ha richiestato un incontro immediato con la cooperativa che gestire il servizio per conto del comune. Visto che solo nella tarda mattinata di ieri siamo venuti a conoscenza della nuova gara e della stessa giudicazione, riteniamo urgentissimo avere un incontro. In mancanza ci attiveremo presso le sedi opportune per garantire tutti i diritti e le tutele del caso ai lavoratori interessati, scrive Antonetti. I lavoratori del servizio puliziai chiedono più stabilità. Attendono ancora il pagamento di tre mensilità ma con l'ultimo appalto hanno subito una drastica riduzione delle ore di lavoro. Otto di loro hanno prestato servizio per 13 ore, una lavoratrice per 9 ore e due per otto ore e mezzo. Qualche mese fa le ore lavorative oscillavano da 24 a 17. Con il nuovo appalto, al di là di chi se lo giudicherà, si spera che le cose cambino. E ora le infiltrazioni d'acqua nei loculi cimiteriali. Le polemiche non cessano e rompono il silenzio. Proprio nella festa di tutti i santi, la vigilia della commemorazione dei defunti. Sentiamo il servizio. Non c'è più pace nemmeno a cimitero. Le polemiche rompono il religioso silenzio che si deve ai defunti del Camposanto, soprattutto in questi giorni dedicati, e la ricorrenza e la commemorazione. A riaccendere tutte le tensioni sono questi monesi che da tempo si sono messi in fila per prenotare l'ultimo alloggio. Al danno della lunga attesa si aggiunge anche la beffa, dal momento che le infiltrazioni di acqua nei loculi cimiteriali non sono cessate. Interventi mirati sono stati annunciati di tempo addietro dall'assessore comunale Paolo Santarelli, ma stando alle segnalazioni dell'ultima ora il problema sembra persistere di nuovo. Altre polemiche riguardano l'assegnazione dei loculi cimiteriali. C'è chi è dovuto presentare più volte la domanda e quindi aspettare a due anni. Sono 200 i loculi a disposizione del Comune di Sulmona, ma il bando ne assegna solo 164. I restanti saranno utilizzati per le morti improvvise. Il progetto dell'amministrazione comunale è quello di realizzare un nuovo loculario oltre all'edificazione di cappelle gentilizie a fronte di non poche richieste pervenute, annunciati interventi mirati sulla cappella Mazzara e l'installazione di nuove telecamere a fronte dei furti di rame perpetrati nel luogo santo a inizio marzo. E fra poco la processione di tutti i santi dei trinitari al cimitero di Sulmona. La processione in onore e commemorazione dei defunti si svolgerà tra poco alle 14 con inizio dalla chiesa della Santissima Trinità, aperta dal mestoso tronco la grande croce vellutata dei trinitari, uno dei simboli della grande processione del Venerdì Santo. A passo cadenzato dallo struscio e confratelli in saio rosso raggiungeranno il cimitero intorno alle 15.30. La celebrazione della Santa Messa nel piazzale interno al cimitero sarà preseduta dall'amministratore diocesano Monsignor Aladino De Iulis. Dopo la celebrazione eucaristica e la visita ai defunti, la processione trinitaria accompagnata dal cappellano dell'Arci Confraternia Don Gilberto Squategui ed una delegazione della Confraternia di Santa Maria di Loreto, nel tardo pomeriggio farà rientro nella chiesa della Santissima Trinità dove è partita. La prima processione di tutti i santi senza il vescovo dal momento che la sede della chiesa diocesana è rimasta vacante. E ora l'emergenza cinghiali per il consigliere regionale Leandro Bracco. Il sele controllo è poco efficace. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Le politiche adottate dall'aggiunta regionale riguardo la problematica degli ungulati non sono state affatto risolutive. Prima che altri innocenti perdano la vita a causa della fauna selvatica, l'esecutivo a guida PD, individui soluzioni efficaci e immediate. Basta piangere morti, basta assistere allo strazio di famiglie. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Leandro Bracco, ricordando anche tutti gli episodi rimbalzati nelle ore della cronaca che hanno riguardato incidenti stradali e anche mortali proprio per l'attraversamento dei cinghiali. Sulla statale 17 alcuni mesi fa ha perso la vita Filippo Frezza, giovane consigliere comunale di Roccapia, tra le tante vittime della strada per un fenomeno che non sembra aver fine. La presenza degli ungulati si è fatta più intensa nell'ultimo periodo in Valle Peligni. Basti pensare che una ventina di cinghiali qualche sera fa passeggiavano di notte nei pressi del cimitero di Pratola. Ormai la questione degli ungulati, dei cinghiali nello specifico rileva l'esponente di Sinistra Italiana assunto proporzioni notevolissime che impongono l'individuazione di soluzioni celeri. Assistere impotenti alla morte di innocenti causati dalla fauna selvatica è inammissibile. L'attuazione del sele controllo, ossia l'abbattimento dei cinghiali in soprannumero, risultato una pratica parzialmente efficace. Sono fermamente convinto, sottolinea Bracco, che la soluzione a problema non sia quella di imbracciare le doppiette, bensì l'attuazione di una serie politica regionale, il cui cardine deve essere fra gli altri, l'elaborazione di una procedura per il controllo della fertilità degli animali. Credere che la problematica causata dagli ungulati possa trovare soluzione grazie a un approccio di stampo esclusivamente venatorio. Evidenze a Bracco è una favola. Reumatologia fra prevenzione e informazione se ne parlato nei giorni scorsi all'hotel Meeting Santa Croce di Sulmona. Gaetano Trigilio nei servizi. Si è tenuto a Sulmona nella sala commegni dell'hotel Santa Croce Meeting, un convegno medico sulle patologie reumatiche giornate o vidiane di reumatologia, il titolo del convegno. Le malattie reumatiche sono patologie caratterizzate dall'infiammazione di articolazioni, legamenti, tentini, osse e muscoli e che in alcuni casi possono coinvolgere anche altri organi, come ad esempio l'apparato cardiovascolare. Le due giornate di convegno sono state organizzate dal dottor Luigi Alois Antonio, primario della divisione di reumatologia dell'ospedale di Sulmona. Le malattie reumatiche sono malattie non frequenti, però i numeri vanno in continuo aumento perché con le crescenti attività ambulatoriali e di reparto i pazienti, i soggetti in particolare vengono sempre più studiati. Molto partecipato il convegno con qualificati relatori che hanno analizzato tutti gli aspetti della patologia reumatica. E' saustivo il convegno che ha affrontato i vari temi come la fisioterapia del rimodellamento osseo, effetti scheletrici della vitamina D, terapia dell'osteoporosi, ipertensione polmonare, i livelli elevati di acido urico come fattore di rischio. Presente la dottoressa Fiorella Padovani, psicologa, presidente dell'Associazione Abruzzese Malati Reumatici Onlus. Dottoressa, nel suo intervento lei ha parlato della necessità di un psicologo che ci sia, che possa affiancare gli altri medici per la terapia ottimale nei confronti di questi malati. È importante considerare l'aspetto psicologico in quanto la malattia comporta nella maggior parte dei casi una deformazione del proprio aspetto fisico e quindi lo psicologo aiuta alla migliore accettazione della patologia. Il convegno sicuramente ha scritto una pagina in più di conoscenza alla letteratura medica delle patologie reumatiche e soprattutto qualche elemento in più circa le terapie che possono, se non risolvere, alleviare le difficoltà di vita delle persone affette da queste patologie. La diagnosi precoce, per quello che rappresenta le malattie croniche e infiammatorie, parliamo sia di artriti, ma un altro grosso capitolo sono le connettivite, che è un concetto un pochino più difficile, per cui il poter fare una diagnostica precoce e una terapia il più possibile precoce e precisa in particolare aiuterà sicuramente i pazienti reumatici ad avere una vita il più possibile normale. Teatro pieno, buona la prima per la stagione teatrale di Sulmona che ha preso il via ieri sera. Vediamo tutto nel nostro servizio. Record di spettatori circa 500 per la prima della stagione teatrale Sulmona, in scena Non ti pago di Edoardo De Filippo con l'ultima regia del compianto Luca De Filippo proprio nel giorno dell'anniversario della morte del grande Edoardo, avvenuto il 31 ottobre 1984, una commedia che presenta un mix di grandi temi, dalla famiglia all'amore, per parlare anche del senso della vita ma anche della morte. E ora a tavola, ah, però prima volevo dire, avete visto tutti quanti che il signor Bertolini è venuto spontaneamente a consegnarvi il biglietto, riconoscendo che l'amici si aspettava a me, l'avete visto, vero? No, no, io chiedo se l'avete visto. Applauditissimi tutti gli attori, ottima la prima, dichiarato al termine dello spettacolo Federico Fiorenza, presidente di Abruzzo Circuito Spettacolo. 500 spettatori è un bel risultato, che dici? Seguiamo la tradizione dello scorso anno che è già stata una cosa eccezionale, credo che Sulmona sia dando una lezione anche ad altre città. I numeri lasciano presagire un'altra stagione di successo, sono più di 250 gli abbonamenti venduti, il doppio di quelli dello scorso anno. Gli abbonamenti, con prezzi calmierati, vanno dai 100 euro dei pacchetti di quarto ordine, 140 di quelli di primo e della platea, con 55 per il loggione. Per i biglietti si va dai 25 ai 10 euro, a seconda dei settori. Sono attivi i servizi della carta del docente di 18 app, attiva anche l'app gratuita di Abruzzo dal vivo, che informa in tempo reale su spettacoli e eventi della regione con apposita geolocalizzazione. Attiva anche la promozione per i clienti Sky da più di un anno, che riceveranno un miglietto gratis per ogni italiano acquistato. Ora ci spostiamo a Roccarasso, conto alla rovescia, per la nuova stagione invernale. Barbara Delemona che ne servizia. Sono positivi i primi test del nuovo impianto di innevamento programmato realizzato alla Remogna. I test andranno avanti per l'intero mese di novembre, in modo che, fra meno di 30 giorni, sarà possibile attivare il nuovo sistema per innevare in poche ore quasi tutti i 110 km di pista della Remogna, di Pizzalto e di Monte Pratello. La conferma arriva dal direttore dei lavori, Marco Cordeschi, che nei giorni scorsi, nel pieno rispetto del cronoprogramma, ha chiuso il cantiere della Remogna, dopo aver realizzato l'ampliamento del bacino idrico del Pallottieri, che è arrivato ad una capacità di oltre 60.000 m3 e nuove linee di innevamento in alta pressione per circa 4 km. Il nuovo impianto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo, attraverso il Pare FSC 2007-2013, attraverso un fondo di 8 milioni di euro. Le prime sensazioni sono state molto positive e sono convinto che, appena le condizioni di freddo lo permetteranno, l'impianto entrerà subito in funzione a pieno regime, ha spiegato Cordeschi. Ora anche le piste che ruotano intorno all'area del Macchione e delle Gravare potranno contare su un sistema di innevamento all'avanguardia, a basso consumo energetico e con cannoni di ultima generazione, in grado di produrre una neve di altissima qualità. La novità assoluta per la cortina del centro Abruzzo, che finalmente potrà programmare l'intera stagione invernale. Quest'ultimo, ha precisato il Presidente del Consorzio Schipass Altosango, Buonaventura Margadonna, è un investimento importante realizzato per aumentare la competitività del nostro comprensorio. Lo abbiamo fatto senza aumentare il costo degli Schipass stagionali e confermando le grandi agevolazioni per le famiglie e per i residenti di Abruzzo. L'innevamento programmato ci aiuterà anche a migliorare la qualità della neve naturale presente sulle piste per rendere i nostri tracciati più belli, sicuri e divertenti. E ora il calcio. Fra poco il turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre. In serie di Nero Stellati affronteranno il Pineto al Barbati di Pescina. In promozione il Sulmona ospiterà al Pallozzi il Casalbordino. Impendi in trasferta per il Raiano contro la Sportland Celano e della Virtus Pratula contro il Fossa Cese. In prima categoria la Moronese ospita il Manoppello Arabona. Tra gli altri incontri di giornata sono in programma San Pelino, Bugnara, Pescina, Pacentro sul campo di Collarmele e Pretoropopoli. Tutte le gare cominceranno alle 14.30. E ora la camerata musicale sul Munese con l'omaggio al bimilenario ovidiano. Gaetano Trigiglia. La camerata musicale sul Munese, ancora una volta, ha voluto partecipare alle cerimonie per il bimilenario di Ovidio. E questo è il secondo evento in programma nella trilogia ideata dalla direzione artistica della camerata. Sul palcoscenico del Teatro Caniglia d'Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Rainer Honek. Ma assoluta novità sul palcoscenico anche un'attrice di valore, Sista Bramini, come voce recitante. Dicevamo novità perché la musica dell'orchestra era interpellata dalla recitazione di Sista. L'orchestra non a caso eseguiva musiche di fondi e terro, sinfonia sesta sulle metamorfosi di Ovidio, la pietrificazione di Mineo e i suoi amici. Era presente anche il vecchissimo Emazione, amante del giusto e timorato degli dèi. E poiché gli anni gli impedivano di azzuffarsi, combatteva e aggrediva con la parola. Inveiva contro quella battaglia sciagurata. Con le sue mani tremolanti abbracciava l'altare. Cromi di spada gli muzzò la testa. E la testa subito rotolò sull'altare. E lì con la lingua mezza morta borbottò parole di maledizione, esalando l'ultimo respiro in mezzo al fuoco. Recitazione in musica ovidiana, un binomio che ha ottenuto grande successo, che il competente pubblico della camerata ha apprezzato con forti applausi. Occorre dire che è stata veramente superba l'interpretazione di Sista, che ancora una volta ha comminto il pubblico qualificandosi come straordinaria interprete dei versi dell'opera ovidiana. Il concerto è andato avanti offrendo al pubblico surmonese musiche di grandi compositori come Mozart e Schubert. E prima di chiudere vediamo quali sono i film in programmazione. La multisala Ejolani di Corfinio, Monster Femmini in programmazione alle 16, alle 18, Vittoria Abdul alle 16, alle 18 e 10 e alle 21 e 10, Thor Ragnarok alle 16, 18 e 20, 21 e 10 e It alle 21 e 10, proiezione però vietata ai minori di 14 anni. Ebbene è davvero tutto per questa edizione, Onda Tg torna come al solito alle ore 20, grazie per essere rimasti con noi, a tutti buon pomeriggio e arrivederci a questa sera. Sulla nostra regione i condizioni di intervento è un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio. Inalizioni generali di cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne dell'Aquilano e sulla Marsica, specie durante le ore più fredde. Poi saranno possibili annuvolamenti ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Temperature in diminuzione nei valori minimi, congelate notturne sulla Marsica e nell'Aquilano, venti deboli di direzione variabile, mare quasi calmo o poco mosso. Grazie per la visione!